Ci sono i fili, tutta la casa è stata amminata, dicevo, ci sono i fili tutt'attorno per farla saltare in aria e fanno saltare in aria tutto, rateranno tutto al suolo, tutto quanto, pare che la famiglia sia lasciato cumuli e cumuli demonnezza, spazzatura, trash, era così, veramente sporchi da morire anche quando ci vivevano, figuriamoci dopo quando sapevano se ne dovevano andare, e praticamente al posto della casa, della fattoria e di tutto il resto sorgerà un grandissimo campo da corsa, green come dicono qui, con un reddito, andiamo a vedere dove mangiavamo noi, non ricordavo più grande, c'è tutto il palazzo, e lì, ed era la seconda entrata della casa dove ci vivevano i genitori, sta arrivando un altro camion, io non ne vado perché ne voglio auto riprendere, eccomi, ci sono anche io qualche po' di consiglio, le riprese purtroppo le faccio sempre e solo io, e anche fotografie, e quindi non ci sto mai, nemmeno nelle cose carine dei fans, ho ripreso l'audio, prevediamo se è andato dai fans, quando è successo a me non c'era nessuno che mi riprendeva, per il mio ricordo, però mi farò mandare da Michael che ci ha tutto registrato e ripreso. Adesso andiamo a girare ancora per il documentario di Michael, ciao!